Prima di iscrivervi alla piattaforma MyVolabo, andate sul sito della YoungerCard per richiederne una. Potete poi procedere con la scelta del vostro stage, attraverso la visualizzazione di diversi progetti che trovate in basso al sito. All'interno di ogni progetto potete trovare le informazioni riguardanti la durata, la tipologia di progetto, il periodo in cui verrà svolto e le attività che verranno fatte. Scaricate poi il modulo per la privacy e compilatelo. Tenetelo da parte perché servirà più tardi nel processo di registrazione. A questo punto cliccate su Iscriviti su MyVolabo e poi su Registrati. Scegliete Persona e a questo punto inserite il vostro codice fiscale e una mail di riferimento. Procedete poi inserendo tutti i vostri dati personali e una password. Accettate le condizioni generali di utilizzo e l'informativa per la privacy. A questo punto cliccate su Vai alla login per completare la vostra iscrizione. Controllate sulla vostra mail. Vi dovrebbe essere arrivata una mail in cui poter confermare il vostro account. Cliccate su Conferma il mio account. A questo punto venite rimandati sulla pagina di MyVolabo e potete scegliere l'icona Say Yes, estate, giovani. Compilate il questionario che vi trovate davanti. Indicate poi tre preferenze di associazione in cui svolgere lo stagio di volontariato. Indicate anche il periodo in cui intendete fare l'esperienza. Non vi preoccupate, questa è solo un'indicazione. Potrete in futuro cambiare la preferenza. A questo punto, se disponete già della Younger Card, cliccate su Sì e allegate il materiale richiesto. Se non l'avete, cliccate su No e andate avanti con il processo di iscrizione. Allegate la liberatoria per la privacy precedentemente compilata e a questo punto la vostra registrazione sarà completa. Potete vedere lo stato della vostra richiesta nella barra Le tue attività in alto a destra. Grazie. Grazie.